Quali progetti o interventi al programma del Ministero dell'Istruzione per le scuole? Gli studenti del Colle e la Salle di Roma fanno le domande sul palco Polizia di Stato, Ministero dell'Istruzione insieme con UniEuro per cuori connessi. Obiettivo informare ai giovani. Internet bisogna usarlo con precauzione e soprattutto bisogna mantenersi sicuri. La prevenzione è fondamentale, ancora di più oggi sottolinea il capo della Polizia. Questo è un periodo in cui noi abbiamo rilevato con la pandemia a fronte di un calo drastico di tutti i reati un aumento importante dei reati commessi sul web e anche della reazione a questi, delle denunce ed altro. I piccoli purtroppo spesso sono vittime, quindi è necessario fare ogni sforzo. Collegati con il Teatro di Garbatella più di 4.000 scuole d'Italia scelte perché hanno segnalato almeno un caso di cyberbullismo alle forze dell'ordine e poi un ospite d'eccezione, Blanco, fresco, di Vittoria Sanremo. Sono un ragazzo anch'io quindi non voglio fare maestro di vita. Però vi dico di stare attenti, chiedete sempre consigli ad adulti o appunto alla Polizia che comunque è qua apposta per aiutarvi. Grazie. 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 Grazie.